Matteo Parlato, buonasera Buonasera a Trieste, buonasera a Roma Qui a Trieste c'è il ballottaggio fra Roberto Cosolini e Roberto Antonione Cosolini per il centro-sinistra ha chiuso il primo turno col 40,67% mentre il suo opponente Antonione ha chiuso al 27,50% Diciamo che c'è stato qui a Trieste un po' uno spezzettamento a destra e questo ha punito un po' lo schieramento del centro-destra Il grande protagonista è stato l'astenzionismo ha votato meno del 60% degli eventi di diritto per cui il 40% di persone non si è presentato alle urne e questa è una tendenza che sembra confermata anche in questo ballottaggio Grazie Matteo Parlato